Il governo italiano ha istituito il reddito d'emergenza. Da 400 a 800 euro per tutte le famiglie in difficoltà, che riceveranno un aiuto immediato e concreto per affrontare l'emergenza coronavirus. Per farne richiesta c'è tempo fino al 31 luglio 2020. Online su www.inps.it oppure tramite CAF e patronato. Reddito d'emergenza. L'aiuto che serve adesso. Grazie a tutti.